Buona giornata amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è sabato 23 marzo 2024, ci stiamo avvicinando alla Pasqua, sentiamo già quest'aria primaverile nell'aria. Oggi sarà una giornata tanto e quanto, insomma tra il lume scuro si dice a Fano, perché è una giornata che sarà un pochino così, non molto molto serena, ma non perturbata come in passato. Ebbene domani è anche una giornata particolare, perché è la Domenica delle Palme, quindi sentiamo già l'atmosfera della Pasqua e chi andrà a Messa avrà tutto il Vangelo del Passio, un lungo, lungo passo del Vangelo che dimostra appunto tutta la fase finale della vita di Gesù. Intanto cominciamo la nostra rassegna stampa a partire dal Santo del Giorno. Leggendo l'Almanacco vediamo che oggi si festeggia Santuribio di Mongrevio, visse nel XVI secolo. Era un santo spagnolo, operò in modo particolare in America Latina, in un periodo in cui i conquistadores ne facevano di tutti i colori nei confronti degli indios. Ebbene Turibio si schierò invece dalla parte di questi ultimi e fu un grande difensore di tutti i nativi dell'America Latina. Fondò anche il seminario di Lima in Peru. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo. Vediamo il sole su tutta la regione Marche. Una giornata primaverile con ampi spazi soleggiati, inframezzati però dal transito, come abbiamo detto, di sterili velature. Temperature massime fino a 20 gradi si stanno alzando considerevolmente. La minima è stata di 12 gradi. I venti sulle coste da sud, nell'interno da sud-ovest. Il mare leggermente mosso, il sole è sorto alle 6.04 e tramonterà alle 18.22. Ebbene con questa prolusione apriamo i giornali a partire oggi dal resto del Carlino. E vediamo un articolo di apertura, che poi leggeremo anche sul Corriere Adriatico, ma che riguarda un progetto che veramente esteticamente è bello e sarà bello anche dal punto di vista funzionale. Quello elaborato dall'architetto Cucinella per l'aggiunta della Biblioteca Federiciana. Un grande progetto costoso, costerà oltre 10 milioni di euro. A disposizione dal PNRR ci sono già 2 milioni e mezzo, ma la notizia di oggi è che l'aggiunta ha approvato il progetto esecutivo, quindi c'è un passo in più nell'iter burocratico per la realizzazione di questo grande progetto, che comunque l'aggiunta seri passerà alla competenza della prossima amministrazione, perché non si riuscirà a realizzare entro i pochi mesi che rimangono alle elezioni del giugno prossimo. È un progetto molto molto importante, che evidenzia un intervento in un centro storico, che è ricco d'arte e cultura, dove si sono sedimentate le costruzioni dei secoli e questo sarà un esempio dell'architettura moderna e contemporanea. Comunque occorre trovare altri soldi, perché la distanza tra 2 milioni e mezzo disponibili, 10 milioni è molto ampia e appunto l'amministrazione comunale ha pubblicato, sta pubblicando almeno una ricerca, un sondaggio per trovare sponsor privati, perché veramente merita questo progetto di essere realizzato. E per annunciare la notizia, evidenzia con un particolare significativo il resto del Carlino, per annunciare la notizia il sindaco Massimo Seri si è alzato dalla sedia, si è alzato dalla sedia perché di fronte ad un progetto così bello, che fa volare alto Fano, portandola a livello delle grandi città europee, bisogna portare rispetto al dichiarato. E ieri hanno parlato di questa nuova costruzione, anche l'assessore alle biblioteche, Samuele Mascarin, è il rappresentante del studio Cucinella, l'architetto che ha illustrato tutte le caratteristiche di questo progetto, una terrazza protesa sul mare, una terrazza che guarderà anche su uno slargo, su una piazza che verrà realizzata di fronte all'entrata della nuova biblioteca federiciana. Sarà fatto più spazio nel retro di via Castracane, che conduce alla biblioteca attuale. Geriamo la pagina e vediamo la cerimonia di consegna della Fortuna d'Oro che si è svolta l'altra sera al Teatro della Fortuna per l'anno 2022 e per l'anno 2023. Si è consegnato questo straordinario riconoscimento che evidenzia la gratitudine della città di Fano a coloro che con la loro opera hanno dato lustro a tutta la città, a Paolo Toffoli, il grande campione di volley, che con la nazionale italiana ha conquistato due titoli mondiali, e anche alla studiosa del Medioevo fanese Anna Falcioni, che è presidente del Centro Studi Varatestiani. Ad Anna Falcioni il merito di aver rivalutato il Medioevo di Fano, che fino a un certo passato era succube della Romanità, che era prevalente, forse lo è ancora oggi. Però il Medioevo fanese è molto importante nello studio della storia di tutto il Medioevo che si è dilungato nella penisola italiana. Perché? Perché con la dominazione dei Malatesta Fano ebbe un ruolo importante anche oltre Alpe, nelle corti del re di Francia, del re d'Inghilterra, del re d'Ungheria, insomma nelle corti europee, perché le relazioni intrecciate da in Malatesta erano molto ampie e molto significative. Del resto in Malatesta furono dei condottieri che ebbero un ruolo importante anche in diverse regioni, anzi in diversi stati, allora erano stati d'Italia. Ed è stata fatta una comunicazione importante durante la cerimonia, perché Anna Falcioni ha dichiarato che studiando la lapide di Jacopo del Cassero, una lapide scritta in caratteri gotici, che è conservata nella chiesa di San Domenico, dove Jacopo sarebbe sepolto, ebbene ci sarebbe la prova che Dante leghieri soggiornò a Fano. Perché? Perché questa lapide ha degli addentellati molto molto stretti con dei passi del purgatorio, del canto quinto del purgatorio, un canto dove ci sono dei precisi riferimenti a questa lapide. La lapide ovviamente è anteriore alla scrittura del purgatorio, per cui Dante in qualche modo deve averla vista. Siccome era una lapide affissa al muro, non poteva far altro che venire a Fano per poterla leggere. Con questo poi magari lui era molto amico anche della famiglia, che poi riportò nelle sue composizioni poetiche. Giriamo la pagina e vediamo la politica, la politica che vede come i progressisti si siano riuniti. Sappiamo che il candidato sindaco dei progressisti, Stefano Marchigiani, c'è stata una riunione nel ristorante della Marina dei Cesari per la presentazione del candidato sindaco. Si respira aria positiva, dice il giornale, e da parte dei progressisti c'è un tentativo di recupero della base elettorale che faceva riferimento al Giuseppe De Leo, il quale ha rinunciato alla sua candidatura. E poi vediamo una inaugurazione di un locale che si è svolta ieri mattina a Sant'Orso. Si tratta di un locale in via Divisione Carpazzi numero 22, un locale arredato dall'ambito con fondi regionali 30.000 euro, più 4.000 devoluti dal Rotary Club di Fano. È un centro d'ascolto per le famiglie, un centro riservato, arredato in maniera molto intima, molto particolare, per soprattutto per così ascoltare, trattare, discutere, analizzare le esigenze delle famiglie più fragili. Insomma, un punto di riferimento importante, Sant'Orso con l'assessorato al welfare, con poi gli uffici decentrati del quartiere, costituisce un punto di riferimento per tutta la città. E non a caso questo nuovo centro d'ascolto, che si chiama 6 plurale, ed è riservato alle famiglie, si trova come un diaframma a metà strada tra la scuola elementare e il centro anziani, quale un ponte tra le generazioni. E questo è molto interessante, perché poi significa che è aperto a tutti, famiglie, giovani e anziani, con ovviamente problemi di fragilità, di disabilità ed altro. Vediamo anche un lutto, un lutto, addio a Cirocco, uomo di Stato. Si tratta di un fanese di elezioni che ha ricoperto importanti incarichi a livello nazionale. Si tratta di Roberto Cirocco, 97 anni, i cui funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 in Duomo era un funzionario del Ministero del Tesoro che è un funzionario che occupò fino al grado di dirigente generale appunto del Ministero, uno dei massimi incarichi a livello burocratico. Ed ora passiamo a Colli al Metauro e vediamo come a livello turistico si delineano dei sentieri per bellissime passeggiate nel territorio che circonda a Colli al Metauro. Trekking sulle vie del gusto, in titola il resto del Carlino, tornano i percorsi aperti a tutti e gratuiti durante i quali storia, natura ed enogastronomia che è irrinunciabile quando poi uno cammina deve anche carburare, si intrecceranno obiettivo raccontare e gustare insomma natura e quello che la natura offre a livello di prodotti, prodotti che sono poi a chilometro zero costituiscono una simbiosi che insomma si addice sia ai residenti che ai turisti. Nuovi investimenti ai lavori pubblici nel comune di San Lorenzo in campo si tratta di 245 mila euro che verranno utilizzati per così intervenire sulle strade per rendere più sicuro il transito degli autoveicoli e più agevole anche dal punto di vista funzionale le arterie che caratterizzano il comune. A Urbino c'è stato un incontro organizzato dalla CNA per quanto riguarda un'analisi del territorio e dell'economia dell'Urbinate. Ebbene il risultato non è affatto consolante e ci sono diverse diversi diversi problemi. La CNA a Urbino diversi aspetti in un convegno che dal titolo Artigiani al Centro un convegno in cui sono stati posti esposti i dati del Centro Studi della CNA della Marche l'ha fatto anche in altre l'ha fatto a Fano l'ha fatto anche in altri centri della provincia. Ebbene che cosa si è rilevato? Innanzitutto il calo della popolazione una cosa che rimane si estende un po' in tutto il territorio un meno 15% ma Urbino aveva era già scazza come popolazione se non ci fossero gli studenti veramente il centro potrebbe declinare. Urbino comunque il comune più vecchio rispetto al dato provinciale per una maggiore incidenza degli ultra 65 anni e poi negli ultimi dieci anni le imprese attive sono calate del 14,2% per effetto soprattutto della diminuzione delle imprese di costruzione calate del 24,7% quelle del commercio sono calate del 27,5% e poi ancora 20 meno 20,1% le imprese del commercio al dettaglio insomma veramente c'è un calo della produzione un calo anche del terziario che è significativo dati che vedono assonanze con un'indagine analoga presentata lo scorso anno comunque l'analisi della CNA ha toccato nei mesi scorsi anche Pesaro e Fano ma Urbino complice la lontananza dalla costa magari Pesaro e Fano hanno più possibilità di interagire anche per le comunicazioni anche per le economie che si spostano verso il mare a Urbino a Urbino ha sofferto di più per quanto riguarda questi problemi che si estendono un po' su tutto il territorio pronto un nuovo auditorium a Urbino sarà a San Girolamo con l'università svelate un evento incontro che ha coinvolto 78 Atenei la Carlo Bo ha calato l'asso dell'imminente apertura dell'ambiente storico ebbene c'è stata una delegazione che ha partecipato a questo convegno che è stata che è stata ammessa nei vari sedi dell'Ateneo e ha fornito appunto a loro una bella anteprima il passaggio nell'ex chiesa di San Girolamo che sarà presto un nuovo auditorium e questi delegati hanno avuto così la possibilità di vedere in anteprima quello che poi sarà fruibile a tutti un nuovo auditorium a San Girolamo realizzato dalla università degli studi e sempre a D'Urbino riparte la parte alta riapre la parte alta della fortezza al Bornoz con mostre e appuntamenti vediamo che le feste pasquali porteranno un'occasione in più per visitare il nostro territorio la più attesa dagli appassionati di rocche e punti panoramici ebbene è quella della riapertura della Albornoz che dall'alto della sua collina domina tutta la città ducale Urbino e quindi che gestisce da due anni la rocca e informa che l'antica fortezza con la sala espositiva interna e soprattutto sul camminamento panoramico esterno riaprirà i battenti domani pomeriggio dalle 15 alle 18 Cantiano siamo a Cantiano il 70% rimane senza aiuti e sono gli aiuti che vengono dati per l'alluvione di 143 alluvionati che hanno avuto danni importanti alla propria casa o negozio o capannone solo 43 hanno diritto al risarcimento una drastica selezione che mostra molte persone che hanno ricevuto danni senza un soldo e poi per quanto riguarda Pesaro evidenziamo invece questo spettacolo che si è svolto a Mirafiore bolle di sapone come lucciole spark accende la favola che fa tornare tutti i bambini entusiasmo per lo spettacolo veramente suggestivo che si è svolto al Mirafiore luci e sensazioni in anteprima nazionale è una alternativa ecologica ai fuochi di artificio si replica ingresso libero stasera e domani c'è una grande esplosione ma non di fuochi che poi potrebbero fare anche dei danni ma di luci e di bolle di sapone è uno spettacolo veramente suggestivo e ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico al Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo l'articolo che riguarda la presentazione di Marchegiani ma soprattutto quello che è accaduto in consiglio comunale l'altra sera quando una delibera consigliare presentata dalla maggioranza è stata bocciata cosa che non dovrebbe accadere perché la maggioranza poi generalmente sostiene le proprie decisioni in realtà c'è stato qualcuno che o non ha votato o ha votato contro Minardi serve un chiarimento quantomeno Minardi il segretario del Partito Democratico la delibera verrà ripresentata formulata diversamente il punto contestato in modo particolare sono stati quei 30.000 euro che la Giunta aveva riservato per la pubblicazione di un consultivo di tutte le attività svolte negli ultimi dieci anni dalle due giunte seri Marchegiani comunque dice non ci sarà nessun ribaltone ci sarà una riunione di tutta la maggioranza per analizzare quello che è avvenuto e comunque lo esclude anche il sindaco Massimo Seri la bocciatura della delibera non produrrà conseguenze di carattere politico sulla coalizione che ormai è agli sgoccioli quindi è inutile spaccare il tutto a due o tre mesi dalle elezioni a Sant'Orso una viabilità da incubo lo asserisce Fratelli d'Italia che non condivide le decisioni e i provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale per tutelare la sicurezza appunto nel quartiere a partire dalla istituzione di un limite di velocità di 30 km all'ora e poi vediamo invece quello che è accaduto ieri pomeriggio nella sala San Michele di Fano la sala San Michele è la sala della università della sede decentrata dell'università di Urbino a Fano in questa sala sono stati rivelati i progetti vincenti del bilancio partecipato e poi il CUP dei teatri sì sono stati elencati sei progetti che sarebbero rientrati nei 150 mila euro messi a disposizione dall'amministrazione comunale tra i 14 selezionati dalla commissione dei 30 chiamiamoli saggi perché erano dei cittadini che poi hanno visionato tutti i progetti pervenuti ebbene questi sei progetti finanziati a questi sei progetti finanziati il sindaco ha aggiunto altre 100 mila euro e quindi li finanziamo tutti tutti i 14 che sono stati scremati dalla commissione comunque qual è il progetto arrivato al primo posto è il progetto che riguarda l'installazione in tre punti a Ponte Sasso di un sistema di spike cam per così garantire la sicurezza prima di tutto della viabilità e poi anche dell'ordine pubblico si tratta di un luogo particolarmente sensibile quello che riguarda la zona tra la statale 16 e via lago maggiore quindi questo è quanto li hanno richiesto i residenti ed è stato questo il progetto è stato classificato al primo posto da tutti i voti che sono stati poi pervenuti dalla cittadinanza via internet tra i 14 che erano stati selezionati dalla commissione e poi qua c'è l'elenco di tutti gli altri progetti che sono stati comunque questo è un progetto che l'attuale giunta consegna alla giunta che verrà con la speranza che verrà replicato perché ha ottenuto un grande successo da parte della popolazione una grande partecipazione ed è il primo segno effettivo di una condivisione di una partecipazione attiva della cittadinanza anche il Corriere Adriatico parla della nuova federiciana c'è l'esecutivo cerchiamo 8 milioni dai partner la differenza tra i 2 milioni e mezzo disponibili e i 10 che servono per realizzare l'opera comunque è stato presentato ieri un modellino che già il modellino stesso è un'opera d'arte bisognerebbe vederlo perché veramente si inserisce meravigliosamente in un contesto non facile come quello del centro storico fanese e ai segni delle diverse epoche a partire dall'arco di Augusto fino poi al Medioevo all'epoca barocca all'Ottocento e via dicendo tre obiettivi per la rigenerazione urbana vengono perseguiti a Fossombrone si devono ridisegnare Piazza Dante a Liglieri la buca e l'ex cinema sono questi gli edifici destinati a nuovi interventi che vengono appunto finanziati per il nuovo aspetto della città di Fossombrone vediamo ancora la Val Cesano con San Costanzo con San Costanzo per quanto riguarda i problemi che incombono sulla palestra Pagnetti Martina Pagnetti questo è il nome del palazzetto dello sport ci sono infiltrazioni d'acqua che devono essere riparati e adesso si interviene sul tetto per 11 giorni comunque sarà vietato perché si devono svolgere i lavori e il transito e la sosta negli intorni della costruzione perché si devono poi rimuovere i pannelli fotovoltaici e vediamo anche la pagina di Senigallia questa mattina dove si parla di una aggressione ed è inspiegabile perché si tratta di una gara che si svolgeva tra ragazzini meno di 14 anni pensate e la violenza è entrata anche nella loro nella mentalità non dico nella loro è entrata nella mentalità di tutto quello che caratterizza queste gare ed è una cosa veramente preoccupante shock alla gara di basket giovanile tifoso in campo picchia l'arbitro la scintilla un baby cestista in un gesto di rabbia ha dato un calcio alla panchina e la partita è stata sospesa ebbene che cosa è accaduto è accaduto che gli animi si sono accesi quando un giocatore un giocatore un ragazzino allontanato dal campo per aver commesso il quinto fallo ha avuto un gesto di stizza un gesto di rabbia forse così determinato dalla delusione per il provvedimento assunto e ha dato un calcio alla panchina allora uno dei due arbitri si tratta di un diciottenne fanese gli ha dato incontro per evitarlo ad abbandonare il campo a quel punto però un tifoso si è avvicinato all'arbitro e a brutto muso gli ha dato una manata ovviamente la cosa è degenerata la partita è stata sospesa ed ora se ne sopporteranno le conseguenze comunque le squadre entrambi le squadre si sono dissociate da quanto è avvenuto e hanno espresso la riprovazione per l'atto del tifoso a questo punto siamo in conclusione non mi rimane altro che darvi un augurio per un buon weekend e noi ci risentiremo lunedì alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per la visione